C'è una citazione di Proust che amo moltissimo, che afferma L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nel conoscere e nell'arrivare in nuovi paesaggi ma nell'avere nuovi occhi Che cosa vuol dire avere nuovi occhi? Vuol dire aver fatto un lavoro su se stessi E' la stessa cosa che diceva il nostro caro amato Gesù soprattutto per la nostra cultura occidentale, la nostra religione, quella dove siamo nati qui in Italia La maggior parte di noi, avere nuovi occhi, nuovi occhi per vedere Il regno dei cieli è qui ma non si vede finché non lavori sull'avere nuovi occhi per vederlo E allora tutto il concetto e l'espressione stessa e il messaggio ridotto e riassunto completamente dell'alchimia stessa Di cui posso adesso parlare e darvi qualche informazione Consiste nell'insegnare all'individuo a vedere questo regno dei cieli, a sentirlo e a costruirsi questi nuovi occhi Quando noi stiamo soffrendo nella nostra vita, e questo è una cosa normalissima Ma dobbiamo sapere che la sofferenza stessa che noi proviamo nella nostra vita non è nel mondo Nel senso che io provo sofferenza ma il mondo non sta provando sofferenza La provo io perché non riesco a vedere la bellezza che c'è nel mondo Quindi è come se il problema fosse sempre mio Noi non possiamo cambiare le persone intorno a noi Noi possiamo cambiare noi stessi e vedremo queste persone diverse Così come noi non possiamo oggi prendere il mondo intero e portare un cambiamento completo nel mondo Ma possiamo cambiare noi stessi perché facciamo parte del mondo e quindi vedere un mondo che cambia grazie al nostro cambiamento Avere nuovi occhi vuol dire sentirsi in viaggio Praticare, mettere in pratica l'alchimia, viverla nella propria vita vuol dire riappropriarsi dell'etica del viaggiatore L'etica del viaggiatore vuol dire sentirsi in viaggio, sentirsi passeggeri a bordo di questa grande astronave che è la Terra Niente è fermo, la Terra sta girando su se stessa, gira intorno al Sole insieme ad altri pianeti Il Sole stesso con tutto il sistema solare ovvero tutti i pianeti gira attorno a un ipotetico centro della galassia E tutta la galassia fatta da miliardi di stelle e quindi di miliardi di sistemi solari Insieme ad altre galassie viaggiano in un universo in espansione Insomma siamo sempre continuamente in movimento, siamo delle onde come questo mare ci ricorda continuamente Ed è bellissimo poter parlare avendo un mare alle mie spalle Che questo pianeta è movimento, è transitorietà, è onda, è continua trasformazione Ed è interessante anche pensare come noi chiamiamo questo pianeta il pianeta Terra Eppure è composto per quasi il 70% d'acqua E perché non si chiama acqua? Forse verrebbe da farsi questa domanda Ma anche il nostro corpo allo stesso modo come se fosse un frattale È quasi più composto d'acqua che di altro E questo è un grande messaggio per noi perché l'acqua è un messaggero Noi siamo in viaggio su questa Terra La nostra anima ha scelto di fare un viaggio su questo pianeta Di prendere un corpo, di viverlo e a un certo punto lasciarlo E tutta la nostra vita e la sofferenza o la gioia che noi possiamo provare In questa esperienza umana sul pianeta Terra Deriva proprio dal saper gestire le relazioni, gli incontri, le esperienze Che noi facciamo su questa Terra, con le persone, in questo mondo Come si fa? Un viaggiatore che vuole veramente fare un buon viaggio Non può portarsi centinaia e centinaia di chili di bagagli Perché appesantirebbero il viaggio stesso? Il viaggio è possibile farlo con un bagaglio che permetta di muoversi liberi e leggeri E questo è un simbolo per noi Cioè che vuol dire? Vuol dire che la nostra vita noi la viviamo Sempre in maniera rinnovata, assecondando l'onda Assecondando l'energia stessa del flusso che ci porta Noi viviamo davvero un'esperienza umana Piacevole, soddisfacente, consapevole su questo pianeta Nella misura in cui impariamo a vivere le belle esperienze Ne prendiamo il meglio, il nettare Le esperienze che sono più spiacevoli Ne possiamo capire l'insegnamento Ne possiamo capire il messaggio per noi Che ci porta a comprendere, che ci porta a crescere Che ci dà una nuova consapevolezza E lasciare andare ciò che non serve È lo stesso discorso, è la stessa cosa che fa Continuamente, ce lo insegna il nostro stomaco, il nostro intestino Nel senso che noi mangiamo, il nostro stomaco divide sostanzialmente Trasforma le sostanze che noi mettiamo come se fosse un laboratorio alchemico Le trasforma, le rende digeribili, le rende liquide, le rende acqua quasi E l'intestino si occupa di assimilare ciò che serve a questo apparato psicofisico Per continuare a vivere, per produrre una vita, per produrre un'evoluzione E lascia andare ciò che non serve più Lascia andare quello che non è utile a questo corpo Che diventa, se stagna in questo apparato psicofisico Tossina, diventa fermentazione Allora voi sapete quanto è importante Quanto è collegata la salute psichica, la salute fisica nella nostra vita E noi possiamo imparare tantissimo Dal nostro intestino e dal nostro stomaco Per quanto riguarda l'atteggiamento più giusto e più bello Nella nostra vita, proprio facendo questo Viviamo le situazioni della nostra vita Non ci attacchiamo Cioè l'alchimia ha inizio da imparare l'arte del distacco, dell'osservazione Il distacco è necessario Non vuol dire non amare più qualcosa Non essere più coinvolti da qualcosa Non vuol dire spezzare, tagliare dei legami Il distacco è amore per se stessi È la capacità di osservazione Oggettiva delle cose Per portare consapevolezza nelle cose stesse E questo è un atteggiamento che noi dobbiamo imparare Portare nella nostra quotidianità Per una salute e un benessere Che altrimenti questa società non può darci Se non ci pensiamo noi Allora il distacco, il giusto distacco È quella cosa che ci permette di gestire Altrimenti quel cavallo pazzo irrefrenabile Che è il nostro apparato emozionale Che si chiama corpo emozionale Corpo astrale, corpo eterico In un ambiente più esoterico Il corpo emotivo Continuamente ci sospinge a provare emozioni E stati d'animo Che possono essere anche deleteri per la nostra vita Che possono essere anche controproducenti Che spesso poi ci accorgiamo Sono le stesse frequenze Le stesse emozioni e stati d'animo Come memorie Di ciò che abbiamo vissuto nel nostro passato Che è stato registrato dentro di noi come trauma Allora L'autoguarigione è portare consapevolezza In ciò che è stata la nostra vita Laddove noi sentiamo di aver vissuto dei traumi Affidarci completamente Aprire il cuore alla vita Vuol dire Che noi possiamo intraprendere questo viaggio E sapere che Tutti gli antichi dolori, traumi E il dolore del passato Possiamo lasciarli andare Li possiamo davvero lasciare andare Possiamo sentire come Inizia una nuova stagione della nostra vita Molto Più legata Alla libertà E a un senso di amore per se stessi E di indirizzo verso la propria autorealizzazione Fare del bene Fa bene È vero Ma possiamo iniziare a fare del bene Quando siamo in contatto con noi stessi Con il nostro cuore Non si può essere in contatto con se stessi Con il proprio cuore E ad amarsi Se non c'è libertà Allora la libertà Essendo un punto fondamentale La libertà essendo un punto fondamentale Della nostra evoluzione Dipende da noi Quanto sono disposto a lasciare andare il dolore del passato Se sono disposto Se faccio questa scelta Tutto l'universo Tutta la vita Viene in aiuto Assecondando Questo principio L'alchimia ha inizio Perché l'alchimia è l'arte Della trasformazione L'arte Della trasmutazione Spesso dico Nel libro Nel mio libro Alchimisti della nuova generazione Delle conferenze Immaginate l'alchimia come un'opera d'arte Come lo scultore Che da un blocco grezzo di marmo Deve tirarne fuori Un'opera d'arte Un David Michelangelo che deve scolpire il David Prende un blocco di marmo grezzo In forme E lui sa che la sua scultura È nascosta lì dentro E deve trovarla Deve trovarla togliendo Sgrossando Lavorando Lavorando sui dettagli Però sgrossando Togliendo Non aggiungendo qualcosa Lo stesso principio vale per noi Abbiamo tanto da togliere E molto meno da aggiungere Abbiamo più da lasciare andare Che da conoscere E aggiungere tante nozioni Per questo si dice La verità è dentro di te La tua verità è dentro di te Tante risposte sono già dentro di te La conoscenza è già dentro di te Davvero è così Però inizia a sentirla Inizia a viverla Nella misura in cui Lascia andare Togli Tutta questa cultura Tutta questa società Ha paura Che tu fai questo tipo di lavoro Cioè che lascia andare Il dolore del passato Ha paura sostanzialmente Dell'arte alchemica Dell'insegnamento Che ci dà l'alchimia stessa Cioè solve e coagula Dividi e poi riunisci Dividi perché separi I tuoi corpi energetici Il corpo emotivo Da quello mentale Vai a fare un lavoro Di pulizia Delle forme pensiero Dei traumi registrati Dentro di te Delle vecchie paure Del passato Che ti impediscono Di far arrivare il nuovo E poi riunisci tutto Ti reintegri Rinasci su una nuova forma Come fa la fenice Rinascere è possibile È auspicabile Dobbiamo farlo Noi siamo fatti per questo Tutto è movimento Tutto è trasformazione Nulla resta mai uguale Il sole si muove continuamente Il mare si muove continuamente Il vento si muove continuamente La terra è viva Noi siamo partecipi E compartecipi di tutto questo Quando ci sentiamo più soli E quando questa solitudine Ci fa paura E ci spaventa Perché abbiamo bisogno Dell'amore È un momento fondamentale Al livello alchemico Al livello di trasformazione È proprio quello Il momento giusto Dove sta accadendo Qualcosa di importante Non bisogna fuggire Questo momento Perché lì c'è la chiave Questa solitudine Se cavalcata Se accettata E soprattutto se amata È l'inizio Di una grande trasformazione Una trasformazione Che ti porterà Verso il meglio Che c'è per te Verso la tua reale natura Questo non può avvenire Se tu fuggi continuamente Le cose che ti spaventano Allora finisco Aggiungendo anche Un'altra informazione Che amo molto È una delle regole Delle arti marziali In generale è Scopri dove sostano Le tue paure Cioè scopri Laddove tu hai paura E lì Vacci Cioè con pazienza Con calma Non in maniera erruenta Non da guerriero Con consapevolezza Con libertà Con fiducia Però vai lì Perché laddove ci sono Le tue paure Se tu ci vai C'è anche la tua libertà Cioè la possibilità Di trasformare La paura In consapevolezza Cioè il piombo In oro Che poi È la chiave Insomma L'allegoria Più importante Di tutto il processo alchemico Vi ringrazio Per l'ascolto Molti E tantissimi altri Di questi concetti Li ho scritti Nel mio libro Alchimisti della nuova generazione Evolvere nella gioia Che è un libro Di alchimia superior E con amore Un abbraccio Andrea